Rita Pavone spiega averissimo perché ha litigato con Loredana Bertè Loredana Bertè e Rita Pavone, perché hanno litigato? La verità averissimo. È ormai finita l'amicizia tra Rita Pavone e Loredana Bertè. A confermarlo è l'artista bionda averissimo, dove è stata ospite per celebrare la sua lunga carriera. Perché le due artiste hanno litigato? L'ex giurata di Amici ha fatto fuori all'ultimo minuto la collega dal concerto Amiche in Arena. Un evento alla quale hanno partecipato tutte le più importanti cantanti italiane, sia quelle più navigati sia quelle alle prime armi appena uscite dai talent show. Il mancato invito ha colpito molto la Pavone che inizialmente era stata invitata a partecipare a questo progetto. Alla fine, però, la Bertè è andata avanti senza chiamare Rita, conosciuta agli esordi della sua carriera. Verissimo, Rita Pavone racconta dello scontro con la Bertè. Lei è stata mia ospite a Milano quando ho fatto il ritorno in teatro e lei mi ha accennato Sto facendo una cosa, tu non puoi mancare. Lei mi ha invitato a Lugano e io sono andata. Anche a cena mi ha rinnovato questa cosa e io ho risposto con grande piacere ha raccontato Rita Silvia Toffanin. Poi però Loredana è andata avanti, ha fatto uscire il disco e ha cantato all'Arena di Verona ma non si è più fatta sentire con la Pavone. Io so che i discografici ti mettono intorno chi pensano a tiri, cioè i ragazzi. Cominciano ad arrivarmi delle voci del tipo Non è lei, è qualcuno vicino a lei che non ti vuole. Tu Loredana eri amica e hai lavorato con me, ma avevi il dovere di dirmelo da amica, avrei apprezzato. Non l'ha affatto, bye bye ha aggiunto l'interprete di cuore, datemi un martello e tanti altri successi musicali. Rita Pavone non è interessata a fare pace con Loredana Bertè. Dunque, oggi Rita e Loredana non hanno più rapporti e la Pavone non è interessata neppure ad una riappacificazione. Non ci siamo viste per tanti anni, non fa niente che continueremo a non farlo. Una telefonata da parte sua? No, grazie, non mi interessa affatto sapere lo sfide di Verissimi. Come la prenderà la Bertè. Ciao! Ciao! Ciao!